L'albero di Natale e sarà un momento credo importante per le nostre festività. In un momento non molto felice per il nostro paese e per la nostra città abbiamo voluto comunque fare un bellissimo albero che ha una caratteristica, non viene da nessuna montagna, viene da piedi monte, è un albero indigeno, è stato tagliato dagli operai del comune, è stato portato, montato qua, tutto a risparmio, ma comunque è uno degli alberi più belli che la città abbia avuto. Accenderemo le luci, speriamo, questo lo speriamo sempre, e cercheremo di passare una serata in allegria. Ringrazio il signor Prefetto che ha voluto essere qua con me e auguro Buon Natale a tutti. Grazie. Buon Natale a tutti. Grazie.